Sapete qual è il dubbio che ci porteremo fino in fondo? Come sarebbe stato il Napoli se fosse rimasto ancora Luciano Spalletti? La risposta certa non c'è, una sensazione sì e prendetela per quello che vale, una sensazione appunto. Avrebbe continuato a far bella figura in Italia e in Champions. Non avrebbe forse ripetuto la fuga solitare per lo scudetto, ma in ogni caso è evidente che si è rotto quel castello fatato di tattica e gruppo, armonia mai blanda e tensione giusta, oppure con altre parole entusiasmo e altruismo, cioè poesia di calcio e giocatori con la cornice di un pubblico magico. Invece è intervenuto il presidente e vabbè, cambiamo discorso. E se il pareggio contro il Barcellona lascia ancora aperta non solo in teoria la possibilità di qualificazione, a fine partita c'è il cucchiaino di zucchero del gol di Ozyman che addolcisce l'amarezza degli ultimi risultati. Con quel piccolo retrogusto del dubbio, anzi del sospetto che questo Napoli sarebbe stato forte come l'anno scorso. Peccato che adesso si porti addosso lo scudetto, sulla maglia, sì, ma anche le cicatrici sulla pelle e il buio negli occhi di tutto quello che è stato deciso dopo lo scudetto.